I vantaggi della tecnologia del futuro sono già qui. Ciao, mi chiamo Nicola. Questo è il mio segno nome in LIS. Sono cresciuto in una famiglia di sole persone sorde e ho una grande passione per la tecnologia. Le persone sorde hanno da sempre una serie di difficoltà e diversi problemi nella ricezione degli avvisi sonori, sia tra le mura domestiche che nell'ambiente lavorativo. Ma adesso è finalmente arrivata una nuova tecnologia. Si chiama KitMe. È uno strumento che ci permette di percepire i rumori attraverso degli avvisi. Una vera innovazione tecnologica. Si tratta di un kit composto da vari sensori in grado di inviare una notifica sullo smartwatch relativa al suono rilevato. Infine, un'applicazione dedicata permette di gestire il tutto. Ci sono anche altre funzioni. Per esempio, da due diverse stanze di un ufficio, due persone sorde come possono chiamarsi? Semplicemente premendo sul sensore. In questo modo verrà emessa una notifica che avviserà sullo smartwatch il collega. Un prodotto così piccolo riesce a dare un così grande miglioramento della qualità della vita. Si può portare ovunque, in qualsiasi luogo. Questa innovazione tecnologica è per noi di grande vantaggio. Def Game. Grazie a tutti. Grazie a tutti.